Quanto costerà ai cittadini che vivono nell'Ulse 7 Pedemontana la contrazione dell'attività negli ospedali e la volontà di non concentrare tutta l'attività in un unico ospedale come previsto invece dalla sanità regionale? Attenzione, non parliamo di soldi, conti, bilanci, parliamo di malattia, dolore, di vita e di morte, cose alle quali non si può dare un prezzo. Però possiamo parlare di numeri e in particolare delle percentuali di occupazione dei posti letto fra il San Bassiano e il Santo Orso. Per quanto riguarda le terapie intensive sono 12 i pazienti ricoverati nei due ospedali su 14 posti dedicati. In subintensiva sono una ventina i casi di covid su 21 posti dedicati. I posti letto occupati da pazienti covid in area non critica sono al 10 per cento circa del volume complessivo. A questo punto chiediamo ufficialmente alla sanità della Pedemontana quale sia la soglia da superare per l'attivazione di un covid hospital. Ma chiediamo anche quanto costerà questo immobilismo ai cittadini. Possiamo già dirvi quanto sta costando in termini di operazioni e quindi di cure importanti e dirette. Prestate ai pazienti. Rispetto al 2019 ad esempio sono stati eseguiti nel solo mese di dicembre 119 interventi in meno nei tre ospedali del territorio. Il numero è addirittura dimezzato al confronto nei mesi di novembre da 1700 interventi circa a poco più di 700. Anche la sala ibrida fiore all'occhiello del San Bassiano donata all'ULS 7 dalla regione e dalla generosità del territorio ha visto una riduzione delle operazioni. Questo calo drastico nell'uso delle sale operatorie sta preoccupando moltissimo i medici che lavorano in ospedale per le ricadute che si potrebbero generare nella condizione dei malati. Un aspetto che assume proporzioni allarmanti per quanto riguarda i pazienti oncologici per i quali esiste il timore che la malattia possa progredire proprio a causa della riduzione degli interventi. Dottori, infermieri, operatori stanno facendo i salti mortali pur di garantire ai loro pazienti un livello adeguato di cure. Ma qui servono risposte. Risposte che può dare solo chi è stato delegato da Luca Zaia a organizzare la sanità della Pedemontana.